Siamo tornati amici del gameplay su Game Oversize, siamo pronti a continuare la saga di Frieza Vediamo un po' dove eravamo arrivati Abbiamo battuto la squadra Genius, definitivamente, quindi dovrebbe essere il momento che incontriamo la prima volta I cattivoni, quelli nuovi Ah, l'invasore della storia E così ci buttano... Cazzo, ci buttano così nella mischia Io che pensavo di vedere Frieza, invece no Speriamo non sia troppo forte Allora, mi sta imparando tutti i colpi, mia Eh, no, guarda, perché vai? Buono Ragazzi, ha continuato l'allenamento di Vegeta, ha imparato altri suoi attacchi Tipo questo qui è... È andato fuori, cazzo Cambiato anche il chiupaggiamento Oh, mannaggia che si separa così Eccolo, finalmente... Dai, l'ho preso, cazzo Oh, c'ha tantissima vita a sto Balordo Bello, le spalle è così Oh Cazzo, il vigore, ragazzi Ma che cazzo vuoi, Crepa? Aia Madonna, che botta che mi ha dato Buono, è entrato, è entrato, è entrato Mi ha dato Ma che è molto, molto figo il cattivo, eh Molto bello Oh Vai, bravo Superata Sì, e vai Ha fatto bene, ha fatto bene Ha scelto dei colori anche abbastanza buona Oh, livello 20, ragazzi Balordo Ora ci spiegheranno perché? Sì, è entrato Rosario, la tua energia Mira Ah, anche voi siete bocchie cuscite Guardate che tettina, ragazzi, eh Ha 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 Ah, quindi su che energia? Ora, ora, siamo tutti No, come? Non ci voglio combattere con Fizze? in effetti abbastanza potenti non so se ha fatto bene la camera di equipaggiamento però mi sembra che andava male mi toglieva tantissimo forse dovevo aumentare ancora di più la vita towa e mira ragazzi mira è il maschio è una mezza specie di sella ah dovevi gli inferi niente dal futuro darbura Uuuu nulla sarà al sicuro ragazzi ma tra l'altro non si può nascondere niente madonna e il Dragon Ball soprattutto perfetto finalmente sappiamo chi sono ragazzi chi sono questi infami del cavolo mamma mia bastardi quindi è la sorella di Darbula oddio Darbula è stato schiavo di Majin Buu quindi io sono una Majin e sono delle mie schiavi ragazzi allora continueremo nel prossimo episodio ragazzi o con un episodio di storia con uno di missioni parallele noi ci vediamo nella prossima puntata vi ringrazio tutti quelli che stanno seguendo la serie vediamo come si intiene anche la nostra Majin I per ringraziarvi ragazzi e andiamo aspetta qual è quello più figo oh ah così ragazzi datemi la vostra energia per continuare questa saga da Game Oversize 390 è tutto ci vediamo nel prossimo episodio ciao ciao ragazzi ciao